Eccoci qua, eccoci qua, è la sera di Natale 25 di dicembre, è stata una giornata piena di riti, di concerto, il concerto del Carlo Felice nella Basilica Superiore d'Assisi che ci ha reso orgoglioso per la nostra istituzione musicale e spero sia stata anche una giornata sia pure prudente, attenta, avete visto il mio post, io ho mangiato qua esattamente dove mi trovo adesso a fare questa diretta da solo perché mia moglie è andata a trovare i suoi genitori, il suo papà, il suo papà però non c'è più e quindi io sono rimasto qui proprio perché bisogna rispettare le regole anche se le abbiamo talvolta criticate, abbiamo detto che avremmo potuto fare un Natale un pochino più libero ma insomma una volta che ci sono bisogna rispettarle tutti e con grande rigore anche perché sono regole che servono per dare una mano ai nostri ospedali, servono per dare una mano ai nostri malati, servono per soprattutto ripartire a gennaio, speriamo tutti con grande entusiasmo verso un anno completamente nuovo e migliore da quello che abbiamo vissuto fino a qua. Però anche oggi volevo aggiornarvi ovviamente visto che ho sentito i medici nei nostri ospedali, quelli che sono in corsia oggi e li ringraziamo insieme agli infermieri e agli operatori sanitari, ho sentito i nostri dirigenti della sanità, ho sentito i nostri esperti covid anche oggi perché come immaginerete stiamo lavorando ovviamente alle vaccinazioni che scatteranno di qua poco più di 24 ore da adesso e quindi ovviamente anche stasera voglio darvi tutti i dati che riguardano la nostra regione e direi che sono buoni dati, ieri abbiamo fatto ieri e stamattina 4.130 tamponi molecolari e 2.416 tamponi antigenici come sapete noi a Genova usiamo anche i tamponi antigenici ultrarapidi, quelli da tre minuti direi che è un numero gigantesco di tamponi se calcolate che era una giornata prefestiva e poi la nottata, la mattinata di oggi insomma siamo nel momento del Natale, direi che il lavoro dei nostri sanitari, dei nostri uffici di prevenzione e delle nostre ASL è stato gigantesco anche in questa occasione e ringrazio davvero tutti sono 445 i positivi, un filo più di ieri ma insomma nulla di eclatante, dipende anche da dove si fanno i tamponi e poi vedrete che a Savona dove sono ancora un po' più numerosi che altrove nuovi casi positivi ancora stiamo risentendo di quei tre cluster, quello delle RSA di Noli e di Calizzano e poi di un cluster ospedaliero all'ospedale San Paolo di Savona che ha dato qualche problema ai nostri sanitari e ovviamente ha prodotto un numero di positivi superiori alla media però l'ottima notizia è che scadono invece e escono dal circuito del Covid 1173 positivi sono quelli in meno sul nostro territorio e francamente nelle ultime 36 ore un numero straordinariamente importante segno che evidentemente i guariti sono sempre di più dei nuovi malati e questo è una vera ordinanza è un vero successo. Poi gli isolati siamo sotto i 5000 sono meno 265 in tutta la regione quindi il numero dei positivi che cala 1173 ve lo spiego bene il numero dei positivi sono coloro che sono malati Covid in questo momento quindi tra coloro che sono guariti e i nuovi soggetti che sono diventati i nostri concittadini che sono diventati positivi al Covid c'è un saldo negativo di 1173 e quindi segno che veramente sta calando l'epidemia e il fatto che ce ne siano di meno lo dimostra che calano anche di 265 le persone che contatti di caso sono stati isolati dai nostri uffici di prevenzione al loro domicilio e quindi siamo sotto 5000 che era una bella soglia psicologica l'altra notizia positiva è che calano anche gli ospedalizzati segno che le persone che si sono presentate oggi ai nostri pronto soccorso sono molte meno di quelle che sono guarite e sono state mandate a casa perché sono 24 o meno gli ospedalizzati quindi in queste 24 ore siamo a 727 quindi sotto finalmente la metà di quanto toccammo col picco quei 1510, 1510, 1520 pazienti che abbiamo conosciuto nella settimana centrale di novembre oggi siamo a meno della metà 727 questo credo che sia un'altra buona notizia un'altra buona notizia di Natale 64 le terapie intensive sono esattamente quelle che avevamo sono quelle che avevamo ieri e quindi anche qui nessun altro paziente diciamo che si è aggiunto alle terapie intensive ed è un altro bel risultato diciamo che stiamo tornando sotto le soglie di guardia anche per numero di ospedalizzati e terapie intensive l'ultimo numero che voglio darvi è quello dei deceduti purtroppo anche se è una giornata di festa e di speranza non posso esimermi sono 11 oggi i nostri concittadini, i nostri corregionali che non ce l'hanno fatta nei nostri ospedali ovviamente darvi questa notizia oggi è un dolore in più anche se tutti i morti di tutti i giorni ci provocano un dolore ma anche in questo caso vedete che è il secondo o il terzo giorno che il numero dei nostri decessi è un pochino inferiore addirittura la metà per la verità dei giorni peggiori o addirittura un terzo rispetto a veramente i giorni di qualche settimana fa quando abbiamo toccato il picco quindi tutti gli indicatori mi dicono e anche i nostri esperti così interpretano che nonostante si sia tornati il giorno giallo prima delle vacanze e nonostante ci sia stato evidentemente un allentamento per le ultime giornate d'acquisto natalizio e quant'altro i numeri restano sotto controllo anzi stanno calando e questo direi che è un'ottima notizia che ci porta dritti dritti al 27 il 27 mattina come sapete vaccineremo le primi cittadini liguri che sono poi medici, infermieri, operatori sanitari e ospiti di un paio di RSA di Genova il vaccino lo vedete anche su questa pagina Facebook ci hanno mandato il video, ha avarcato il Brennero scortato dai carabinieri proveniente da Bruxelles dove la Pfizer lo produce è arrivato a Roma pochi istanti fa, proprio pochi minuti prima di cominciare la diretta è arrivata l'agenzia che aveva raggiunto Roma domani sera o al Piottaldi all'alba del 27 raggiungerà il San Martino e noi intorno alle 9 e mezzo ovviamente inizieremo le vaccinazioni per questo domani pomeriggio di nuovo apriremo la regione saremo lì con tutta la sanità a organizzare questa grande giornata simbolica sono pochi i vaccini, sono 320 i vaccini però poi il 29 ne arriveranno altri, il 30 ne arriveranno altri e così via non ci dovremo più fermare fino a che a metà primavera ci auguriamo di aver messo in sicurezza almeno tutte le persone quelle davvero a rischio, cioè i nostri grandi anziani gli operatori sanitari lo saranno anche prima perché entro la fine di gennaio, stando ai numeri dovremmo aver vaccinato tutto il nostro personale sanitario e tutti gli ospiti dell'RSA e a quel punto credo che non avremo più difficoltà con i nostri ospedali perché anche se il Covid continuasse a circolare se voi considerate che il 50% dei letti dei nostri ospedali e oltre l'85, 87, 90 a seconda delle statistiche per cento dei morti riguarda appunto ospiti di RSA, grandi anziani e persone di questo genere oltre che ovviamente le persone che hanno già delle malattie croniche se noi riusciamo a vaccinare tutte queste entro i primi 30-40 giorni dell'anno nuovo vuol dire che i nostri ospedali non andranno appena fanno quando anche il Covid dovesse continuare a circolare e poi entro l'estate ovviamente dovremmo riuscire a vaccinare un numero di Liguri noi ci aspettiamo almeno 500-600 mila tali che si possa poi parlare di quella famosa immunità diffusa che ci consentirà ovviamente di tornare alla normalità della nostra vita ma io penso che si potrà fare già molto molto prima bene quindi domani pomeriggio poi vi darò tutti gli aggiornamenti per la giornata del 27 dei vaccini e anche per quelle a seguire quando i vaccini arriveranno anche in tutti gli altri 15 hub di somministrazione nelle nostre province a partire da Ventimiglia fino a Sarzana e poi non ci fermeremo di lavorare neppure un giorno quindi domani pomeriggio si torna tutti a lavoro sarà aperta la sala stampa della regione vi aggiornerò come faccio ogni giorno delle novità di giornata oggi c'è stato anche un caso che ha un po' spaventato i quartieri di Ponente della città di Genova un incendio in una fabbrica nella zona del quartiere di Voltri ho sentito anche qui il nostro assessore della protezione civile Gian Pedrone dei tecnici di Arpal non ci sono rischi ambientali di nessun tipo anche se era un incendio in uno stabilimento delicato ma la nostra Arpal ha fatto tutte le analisi insieme ai vigili del fuoco e quindi è stato un pomeriggio un po' di agitazione diciamo così ma senza che per fortuna ci siano ritorni negativi da questo fatto e anche questa è una cosa positiva bene, allora vi auguro ancora vedete l'albero di Natale alle mie spalle un buon Natale un anno felice notte di Natale ci sentiremo domani sera adesso io visto che è tornata mia moglie forse dopo i ravioli di oggi riscaldati da me un po' malamente riuscirò a avere una buona cena di Natale come mi auguro l'abbiate voi vi auguro di aver fatto con i pochi familiari consentiti e pochi amici consentiti una bella giornata di Natale in pace, in serenità e soprattutto grande speranza per la ripartenza ancora buon Natale a tutti ci sentiamo domani grazie a tutti